E adesso è il momento clou della nostra hit fare. E mi gini, fai un salto, fagli un altro, fai la penitenza, fai la riverezza. Passa il paperino con la pipì in bocca, guai a chi la tocca, la tocca è tu. Se giro un menotti a pagina 7, son 5 levette dello Yucatán. Per me Pietro Micca, se solo ho sbagliato, si era incendiato, fumando con l'oasne sussidiato. Tiro, tiro la stampella, colpendo sa torre, il sangue che scorre, nel vento il colore. Il pane ci manca, ma Muzio risponde, c'ho l'arco che fonde, il tigre lo avrà nel sussidiato. Carivaldi fu ferito, fu ferito ad una gamba, Carivaldi che comanda, che comanda i suoi soldati. Prego, prego tutti a casa, guarda me, guarda me, qua, prego tutti voi a casa, di imitare la figura A. La figura A, o limita anche la figura Abyss, va bene comunque. Per questa canzone, con questi umori così extracomunitari, così neri, che salgono dal profondo. Vi sentite voi nei vostri tinelli marron, mi dite Paolo Conte. Diego, tu pensi forse, neanche per sogno, non è mai accaduto e non può accadere. L'uomo progredisce sempre grazie alle sue eccezionali capacità di adattamento. Chiama bravo.